Comunque, a parte i colori, vogliamo fare i complimenti a Mattia Perin che ha parato un rigore e ha fatto una grandissima parata anche su Ambarabat, vero? Sì, sì, ha fatto anche una bella partita. Su chi l'ha fatta la parata su? Su Baratta. Ambarabat. Ambaradam. Ambaradat. Ambaragab. Ambarabat. Vaffanculo, tu è lui. No, grande Matti. Allora, a pochi minuti dal derby, secondo te come finisce? Io spero 2-1. Per chi? Per l'Inter. E chi segna? Chi segna? Prima Barella. Un altro gol fa Barella? Due! Eh, ma fa un altro gol consecutivo? Uno Barella e uno Lutaro. Chi? Vaffanculo. Dopo, un po' si ritorna a vedere la partita insieme e che partita il derby, quindi... Forza Inter! Meglio, eh! Forza Inter! Meglio, meglio! Forza Inter! Meglio, meglio! Vaffanculo! No! Eccola, mai accomodata, è tutto pronto. Eccolo, sei pronto? Sei carico? Sei bello? Sei fatto? Sei spin-spit? Sei drottrix? Che, ma c***o, ha munito anche da Dumbo! Che... Che... Sto testa da cazzo! Che quel francese sasso gli hanno spinto! È stato lui! Ma era Dumfris, no Dumbo? Dumfri! Grande concentrazione! Go! 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 Chi ha segnato? Bobo! Come Bobo? Ma come? Chi ha segnato? Brogani! Chi ha segnato? Brogani! Chi ha segnato? Vaffanculo! Oh, il primo gol insieme di questa stagione! Oh, no! Hai visto ha segnato il Milan? Eh, e l'ho visto! Lascia sempre... Quello non te la faccia sempre solo! No... Ti dispiace un po'? E beh, mi dispiace? Miau! Miau! Ha mangiato! 5 febbraio 2022 nel suo primo derby! Dove è pesantissimo per un giocatore che non... Aspetta, beh, dov'è? Meneu! Perché? Perché no! Perché vuoi non sti! Ma dov'è? Non trovano, quando giocano... Tre auti! Gli occhi sono! Cazzate! Ho visto il Milan!